Ciao a tutti, sono Anselmo Zocca, l'insegnante di psicodizione. Sto facendo questo video per ricordarvi che lunedì 23 settembre a Torino comincerà il corso di psicodizione per la riabilitazione dalla balbuzie. Chi vi parla è una persona che ha sofferto di balbuzie fino ai suoi 24 anni di età. La balbuzie è stato un compagno di viaggio che ha influenzato in maniera profonda molti aspetti della mia vita, dalle situazioni quotidiane, quale ordinare un caffè, parlare liberamente con gli amici o dire il mio nome agli sconosciuti per arrivare anche a situazioni emotivamente più impegnative quali le interrogazioni a scuola, gli esami universitari e successivamente i colloqui di lavoro. Psicodizione mi ha offerto un percorso, un approccio concreto e funzionale per ridiventare padrone della mia comunicazione. mi ha nuovamente reso un comunicatore fluido e competente in ogni area della mia vita ed è un obiettivo che è alla portata di tutti con il giusto percorso e le giuste azioni. Quindi vi aspettiamo lunedì 23 settembre a Torino, vi lasciamo i link in descrizione, i contatti per mettervi in comunicazione con noi. Vi ricordiamo che per quanto riguarda Torino questo sarà l'ultimo corso dell'anno, quindi a maggior ragione non lasciatevi scappare questa occasione. Vi aspettiamo a braccia aperte. Ciao a tutti.